Buon salve e bentornati su No Mamamazzo. Sono molto felice finalmente di parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, di un film che ha comunque accompagnato la mia infanzia e che è sicuramente nella mia top ten dei film preferiti. Sto parlando, come potete intuire dalla scenografia, di Ghostbusters. Prima di concentrarci sul film del 1984 diretto da Ivan Reitman vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che hanno visto spiriti, spiritelli o fantasmi e che se andate qui sotto, nei link che vi metto in descrizione, potete acquistare cose carine relative al video di cui parlo e che possono sovvenzionare il canale, nonché vi aiuto anche a spendere meno per quanto riguarda l'utilizzo di Netflix perché potete iscrivervi a Together Price che è una piattaforma, un portafoglio virtuale che vi permette di conoscere gente come voi che vuole risparmiare e quindi di condividere il proprio account Netflix o Spotify o altri. Come ultima cosa vorrei parlare un attimino del videogioco Ghostbusters che è uscito il 4 ottobre, poi ne parleremo approfonditamente nel gameplay che farò, ma dato che nel gameplay non starò giocando vorrei spendere un attimino due parole. È uscito il 4 ottobre, Ghostbusters The Video Game, la versione rimasterizzata del videogioco del 2009 che ha fatto davvero molto successo, era un videogioco fantastico, io ci giocai con l'Xbox 360 all'epoca e è un seguito ideale di Ghostbusters 1 e Ghostbusters 2, è un ideale Ghostbusters 3 anche perché è stato scritto sempre da The Necroid e da Harold Ramis e ricalca proprio la trama di quello che avrebbe potuto essere un terzo film. All'epoca la cosa bella era che si poteva anche giocare online, acchiappare fantasmi in tutto il mondo con altri Ghostbusters, io purtroppo ci ho giocato un po' con online perché poi è subito andato via il server ed ero una pippa perché avevo appena iniziato, ma è stata un'esperienza fantastica che purtroppo non continua in questo gioco perché è solo presente nella versione offline, quindi si gioca per un giocatore e un'altra pecca negativa è che non l'hanno tradotto in italiano. Nel 2009 il gioco aveva le voci originali degli attori americani ma aveva anche le voci originali dei doppiatori del gioco, quelli comunque che erano ancora vivi. Purtroppo non è stato, questo doppiaggio non è stato rimesso in questo videogioco che è giocabile solo in inglese, quindi la mia speranza di accantonare l'Xbox 360 per fare spazio è sfumata perché ci vorrò giocare comunque ancora in italiano. La grafica però è spettacolare, se voi come me avete la possibilità di confrontarla vi assicuro che si nota molto la differenza. Un'altra cosa molto carina è che se voi leggete i fumetti della IDW sono anch'essi un seguito ideale a Ghostbusters 1, Ghostbusters 2 ma anche Ghostbusters The Videogame perché ci sono anche i personaggi di Ghostbusters The Videogame, quindi in un certo senso sarebbe in continuity. Dico in un certo senso perché nel 2020 uscirà davvero Ghostbusters 3 e quindi non so se questa continuity verrà cancellata e si partirà direttamente dagli eventi di Ghostbusters 2 però è anche vero che sarà un Ghostbusters 3 ambientato nel 2020, di conseguenza ci saranno Ghostbusters anziani, quindi può essere che sia successo tutto quello che sia successo ma comunque sono passati tanti anni e non ne parleranno. Scusate l'intro molto lunga ma era dovuta perché c'è tanta carne al fuoco sull'argomento ma concentriamoci sul film dell'84, il film che ha fatto un successo strepitoso, un successo che gli stessi autori non si aspettavano. Parlando banalmente di cifre e di numeri, il film è costato nel 1984 30 milioni di dollari ma ne ha incassati 242 milioni solo negli Stati Uniti e quasi 300 milioni in tutto il mondo compresi gli Stati Uniti che equivarrebbero più o meno nei giorni nostri a 430 milioni all'incirca di incasso. È stato un successo della Madonna anche perché Ghostbusters è un film che trascende diversi generi. In America tra l'altro è visto principalmente come una commedia ma in realtà c'è molta fantascienza non in senso stretto perché non c'è lo spazio non ci sono alieni vari ma è una fantascienza urbana come quella di Ritorno al Futuro ed è questo elemento, scusate il gioco di parole, terreno della fantascienza che era molto in voga negli anni 80 e che tuttora piace anche a chi non mastica molta fantascienza come me per esempio. Io adoro i film come Ghostbusters e Ritorno al Futuro proprio perché è vero c'è un elemento fantascientifico ma è portato nella vita di tutti i giorni e quindi non nello spazio. Ora sicuramente vi narrerò qualche aneddoto che se siete dei fan dei Ghostbusters già conoscerete ma io ve li racconto lo stesso perché sì. Come forse molti di voi sapranno il film Ghostbusters è stato scritto da Dene Croyd ovvero l'attore che ha interpretato il dottor Ray Stance e da Harold Ramis l'attore che ha interpretato Egon Spangler. Dene Croyd non è nuovo alla sceneggiatura tant'è che Blues Brothers, altro film di cui lui è protagonista insieme a John Belushi è stato sempre scritto da lui. In entrambi i casi però sia in Blues Brothers che in Ghostbusters Dene Croyd scrive tanto, scrive troppo. Fa degli script davvero lunghi e nel caso di Ghostbusters anche un po' troppo fantascientifici per gli effetti speciali dell'84. Tant'è che Bruce Brothers è stato poi scritto di nuovo, cioè di nuovo, è stato aggiustato da John Landis il regista e Ghostbusters è stato aggiustato da Harold Ramis che era sceneggiatore anche per il Saturday Night Live. Perché Saturday Night Live? Perché appunto dal Saturday Night Live escono tutti, quasi tutti i protagonisti di Ghostbusters Dene Croyd che faceva appunto uno dei Blues Brothers già al Saturday Night Live prima ancora di portare il film al cinema. Harold Ramis ha fatto e scritto principalmente perché Harold Ramis principalmente è uno sceneggiatore e regista, ha scritto diversi sketch di al Saturday Night Live e Bill Murray Bill Murray all'epoca aveva fatto un gran successo al Saturday Night Live. Infatti se voi avete un occhio un attimino critico sui film, su tutta la vicenda Ghostbusters potete notare quanto Bill Murray per quanto bravo sia la sua interpretazione e le sue interpretazioni nei vari film, è la prima donna del gruppo e non mi riferisco al personaggio Peter Vinkman ma è proprio lui, l'attore, che è una prima donna. Quello che non si potrebbe immaginare è che già all'epoca di Ghostbusters 1 era la prima donna. Perché dico questo? Perché parlo male del leader dei Ghostbusters? In realtà, vabbè, non ne parlo male però un po' di maretta io ce l'ho con Bill Murray. Perché? Innanzitutto lui accettò la parte del dottor Peter Vinkman in sostituzione a quello che era pensato come il cast originale. Il cast originale era ipoteticamente pensato per The Necroid, per John Belushi che però purtroppo è morto nell'82, due anni dopo l'uscita di Blues Brothers, che avrebbe appunto avuto il ruolo, diciamo, di Peter Vinkman e poi ci sarebbe stato Eddie Murphy che anche lui era reduce dal Saturday Night Live. Cosa succede però? Che in quel periodo Eddie Murphy non poteva girare Ghostbusters perché stava già girando un altro grande successo di quegli anni, cioè il primo episodio di Beverly Hills Cop. Ed è per questo che al posto di Eddie Murphy è stato assunto un attore all'epoca emergente e sicuramente un attore e non un comico a differenza degli altri che era Ernie Hudson con cui condivido il nome, anche se il mio è un secondo nome. Neanche a farlo opposta il personaggio di Winston è quello più terreno rispetto agli altri fantasiosi e creativi scienziati, tant'è che anche nel film Ernie Hudson è l'unico vero attore a differenza degli altri che in quanto comici hanno improvvisato tantissimo durante il film. Molte delle battute storiche di Ghostbusters sono frutto dell'improvvisazione degli attori. E infine appunto hanno assunto Bill Murray al posto di John Belushi, però già qui Bill Murray ha precisato che avrebbe accettato la parte solo se fosse stato il protagonista, se ne fosse uscito in modo più carismatico o come leader del gruppo, cosa che è successa e per carità non nego che anch'io da piccolo ho amato tantissimo Ghostbusters per il carisma di Peter Winkman, quindi per la bravura di Bill Murray, quindi questa cosa ha pagato molto. Ma ci sono molti piccoli dettagli come a parte il fatto che viene smerdato all'inizio del film da Slimer, da quella scena in poi è quello che viene sporcato di meno. Se ci fate caso nel finale quando tutti sono ricoperti di schiuma da barba dell'Omino di Marshmallow, Peter Winkman è quello che è ricoperto meno perché non voleva sporcarsi. È sempre anche un po' di Peter Winkman la colpa per cui un Ghostbusters 3 non è mai uscito al cinema, perché è sempre lui che è stato restio a fare altri Ghostbusters oltre il primo e il secondo capitolo. Ciò nonostante è stato anche abbastanza paraculo nel citare se stesso nel film Zombieland e nella premiazione del film Zombieland, perché lui è ben conscio del successo di questo film, però per qualche ragione è sempre stato un po' restio a girare il terzo capitolo. Fortunatamente forse per il film del 2020 lo hanno convinto e sicuramente lo avevano convinto a doppiare il videogioco, che però purtroppo per noi italiani il doppiatore italiano già nel 2009, Oreste Rizzini era venuto a mancare e di conseguenza noi non abbiamo la voce originale di Peter Winkman in italiano. Come stavo dicendo prima, The Necroid ha un'immensa fantasia e aveva pensato il film Ghostbusters come a una squadra poliziesca paranormale sparsa nei vari continenti che si occupava appunto della cattura di fantasmi, ma si parlava appunto di un mondo popolato da autovolanti e anche da viaggi nello spazio-tempo, cosa che chiaramente all'epoca non poteva essere fatta senza che venisse una ciofeca o comunque senza un budget molto più elevato. Ed è per questo che Harold Ramis ha riportato a terra la dimensione Ghostbusters. E gliene sono molto molto grato perché, come ho detto prima, io adoro questa versione della fantascienza. Se fosse stato troppo fantascientifico, probabilmente non avrebbe fatto lo stesso successo con il grande pubblico. Parliamo del personaggio di Slimer, che tra l'altro non viene chiamato Slimer nel film, viene chiamato solo l'inzaccheratore in italiano, che potrebbe essere tradotto come Slimer, ma viene chiamato Aborto di Tubero in vari modi, ma non viene chiamato Slimer, fino al cartone animato del 1987. Cartone animato che trae liberamente dal film e che ha portato ancora di più al successo i Ghostbusters nei bambini dell'epoca. Anch'io ho conosciuto Ghostbusters prima dal cartone e poi dal film, ma devo dire che sono tra quelli che comunque hanno apprezzato moltissimo i film. Slimer è un omaggio, diciamo, a John Belushi o a Bluto di Animal House di John Belushi. Lo si deduce dall'aspetto un po' tarchiato, dal fatto che si mangia sempre l'impossibile, e The Necroid stesso ha ammesso che a volte pensava a Slimer come se fosse il fantasma di John Belushi. Dal 1984 non si può più dire Who You Gonna Call senza pensare ai Ghostbusters. La frase E chi chiamerai ormai è associata indissolubilmente al franchise dei Ghostbusters. Parliamo proprio di chiamate. Nel 1984, per sponsorizzare il film, non so se vi ricordate, nello stesso film che c'era uno spot in cui i tre scienziati mostravano, nello spot televisivo, un numero a cui chiamarli per poter essere ingaggiati. Questo numero, inizialmente, non era quello del film, ma era un altro numero realmente esistito, che ricevette all'incirca più o meno mille chiamate l'ora dai fan, tant'è che poi venne sostituito nel film. Ghostbusters, così come L'Uomo Ragno, per esempio, come Spider-Man, è un film new-yorkesissimo, ha un forte attaccamento alla città di New York. Le location sono realmente esistenti, quelle in esterna quantomeno. La caserma dei pompieri, quartier generale dei Ghostbusters, è la reale caserma Hook & Ladder numero 8, che è situata nel quartiere Tribeca di New York. L'edificio chiamato la centrale dei fantasmi, ovvero l'edificio dove abita Dana Barrett nel primo film, è realmente esistente anche se ci hanno aggiunto dei piani a computer, se così vogliamo dire, con gli effetti speciali, ed è realmente situato in Central Park West. Tra l'altro, se state giocando al Spider-Man per PS4, potete esplorare New York virtualmente e potete anche andare in questi luoghi. La caserma dei pompieri di New York ha appeso al suo interno il logo di Ghostbusters 2, in omaggio appunto alla popolarità che questi film gli hanno reso e all'esterno invece, in terra, c'è un murales con il logo dei Ghostbusters. La caserma tuttora è meta di pellegrinaggio da parte di tutti i fan di tutto il mondo dei Ghostbusters. Lo stesso nome Ghostbusters non è un nome originale nato dalla mente di The Necroida, era un nome che già esisteva ed era proprietà della NBC, perché negli anni 70 c'è stato questo telefilm strampalatissimo, molto comico, con due attori umani e un gorilla, ovviamente un umano nel costume da gorilla, chiamato The Ghostbusters, dove c'erano questi strampalati a chiappafantasmi. Da questa serie televisiva degli anni 70, negli anni 80 hanno fatto il cartone della filmation Ghostbusters, per fare concorrenza e approfittare dell'ondata di successo dettata dal film, al cartone The Real Ghostbusters, che invece si ispirava al film dei Ghostbusters dell'84. Fortunatamente sono riusciti ad avere i diritti per il nome, quindi abbiamo sia i Ghostbusters, quelli di The Necroida, e The Ghostbusters, quelli della Filmation. Fatemi sapere qual è stato il cartone che avete apprezzato di più da piccoli. Il film è stato un grandissimo successo anche a livello di critica, ed è stato il miglior successo dell'84. Tenete presente che in quell'anno usciva anche Terminator, usciva anche Gremlins, usciva Dune, ne uscivano tanti di film che sono diventati cult nella storia del cinema, quantomeno del cinema pop. Eppure Ghostbusters è stato il migliore. Parte di questo successo è dovuto sicuramente alla colonna sonora e alla canzone principale omonima Ghostbusters di Ray Parker Jr. Tutti conoscono il motivetto, who you gonna call, tutti conoscono, se non a memoria le parole, quantomeno la canzoncina c'erano in testa, anche perché negli anni 80, nell'87 è stata anche la sigla del cartone animato The Real Ghostbusters, quindi se uno non l'aveva ancora memorizzata con il film è rimasta in testa grazie al cartone animato. Ma forse non tutti sanno che questa canzone è stata anche citata per plagio da Huey Lewis. Huey Lewis è colui che ha fatto la colonna sonora di Ritorno al Futuro, ok? E che in quel periodo appunto ha rinunciato a fare la colonna sonora di Ghostbusters proprio perché era impegnato in quella di Ritorno al Futuro. Ma Ray Parker Jr., la sua canzone Ghostbusters, ricorda davvero tanto una canzone di Huey Lewis chiamata I Want a New Drug, non ve la posso far sentire qua per motivi di copyright, ma magari vi metto il link in descrizione. Ascoltate le due canzoni, il motivetto è abbastanza simile, l'arrangiamento, quantomeno ovviamente non le parole. Quindi ci può stare che Huey Lewis sia un porchino risentito perché questa canzone Ghostbusters ha fatto un successo della Madonna anche a livello commerciale. Con questo è tutto, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video o anche se non vi è piaciuto di condividere il video con tutte le persone che hanno visto un fantasma e di attivare la campanella delle notifiche per seguire gli altri video che saranno di argomento simile. Noi ci vediamo nel prossimo video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e